Grazie 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 La cooperativa nasce per dare una risposta alla necessità di un gruppo di genitori di ragazzi allogistici. La cooperativa ha negli anni poi sviluppati con i progetti di formazione e di inclusione sociale e lavorativa per i ragazzi e i giovani con l'autismo. La missione, ce lo dica lei, qual è la missione? La missione è che, un giorno dopo che ci hanno lavorato la faccetta, ci sono venuti a mangiare da voi e ci hanno trovato sul palco. Lo sforzo che stiamo facendo, che ci ha impegnato da questo incontro, è quello che ha rispondato la durativa per i nostri figli autistici, ma ha fatto un autismo molto severo, accompagnato da un altro gruppo di ragazzi in quei anni, c'è Elias e Marco, che ci hanno aiutato a fare le sue esperienze. La cooperativa nasce all'interno del distituto per i papi. Nella compagina sociale della cooperativa c'è il consiglio dell'istituto e il preso, noi siamo un piccolo ente strumentale nazionale. Abbiamo tutte le licenze e le autorizzazioni per svolgere un servizio all'esterno. La prima cooperativa di ragazzi iniziali, i quali sono soci della cooperativa non utenti, è la prima cooperativa di ragazzi iniziali che offre un servizio all'esterno. Ora siamo un servizio di mangiare, ma è un attimo servizio di migliorazione, non è più erale, non è più erale e non ci vuole non vivere. E questo è il senso di portare, per questo, perché vogliamo, 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 vogliamo e grazie bene perché vogliamo più. Complimenti, la cooperativa per il titolo. Voglio dire una cosa, quando sono stata a mangiare la pastetta con la mia famiglia della vita dei bambini e ho detto che è bello, grazie, grazie, siamo stati benissimo. E loro ho scritto, ho detto, noi dobbiamo adorare a sedere voi perché voi siete la nostra terapia. Quindi questa è una cosa grandissima. Grazie. C'è Davo e ragazzi, prego, grazie, grazie, grazie. Ricordate il parco, la cooperativa Rosciana Vivo Reintegrata, presenta che si è arrivato. Allora, prego a presentare la visione, la fotografia, fuori di Dio, che è successo di Dio perché è così, di Dio, di Dio, di Dio, di Dio, di Dio. Eccoci qua, si state organizzando un lavoro, questo è il Medio Psica di Dio, della cooperativa Sociale Vivo Reintegrata, di Dio e di Dio.